Vincenzo Puliese, 38enne nato a Fasano, è stato sottoposto a fermo di polizia a seguito di un intervento condotto dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale di Bari e della sottosezione polizia stradale di Trani. Erano le ore 14 di martedì scorso quando una pattuglia della polizia stradale di Trani, mentre percorreva il tratto autostradale Bari-Napoli poco prima del casello di Cerignola, ha notato il conducente di un Fiat Doblò che, accortosi della pattuglia, ha proseguito velocemente la marcia al fine di sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento, l'uomo è sceso velocemente dal mezzo, abbandonandolo pericolosamente con il motore acceso, ha scavalcato una rete metallica e si è dato alla fuga. All'interno del vano di carico del furgone sono stati rinvenuti nove parallelepipedi di cellophane di varie dimensioni contenenti ben 100 kg di marijuana. I poliziotti, a seguito di accurati controlli, hanno rinvenuto lo smartphone del fuggitivo, perso durante la fuga e sottoposto a sequestro. L'immediata attività di indagini ha consentito agli investigatori della Polstrada di Bari di identificare il possessore, che a seguito di ricerche condotte in collaborazione con i poliziotti della polizia stradale di Brindisi e della sottosezione polizia stradale di Fasano, è stato rintracciato nella città di Fasano. Nonostante un nuovo tentativo di fuga, il 38enne è stato bloccato e tratto in arresto. L'uomo è ora ristretto presso il carcere di Brindisi.